Un protocollo su cui stiamo lavorando da tempo ma ha un grande valore, innanzitutto perché mette insieme tante istituzioni, enti, associazioni, anche nel settore religioso, quindi laiche e religiose e il Comune sempre di più sta mettendo in campo quell'azione di coordinamento perché certe volte si è detto proprio questo, ognuno sembra che va un po' per la sua strada anche se in modo molto meritorio, noi abbiamo voluto mettere insieme queste realtà e dare un segnale forte che noi vogliamo contribuire a rafforzare i corridoi umanitari, questo è un tema importante per i rifugiati, i richiedenti asilo, per le persone in difficoltà e per le famiglie, infatti qui il messaggio forte è l'accoglienza delle famiglie siriane, quindi nemmeno disgiungere i nuclei familiari e dare un significato forte, chiaramente simbolico, chiaramente una goccia in un oceano, però da una parte c'è chi raccoglie firme per fermare l'invasione, dall'altro c'è il senso di colpa di tante altre persone che dicono riusciamo a fare poco rispetto a quella che è una tragedia e quindi è su questo che si dovrebbe innestare un nuovo modo di intendere le nostre città e le nostre comunità, sicuramente Napoli è distante tutto il mar Mediterraneo che separa Napoli da quei territori nel pensare che nel nostro paese abbiamo un problema di invasione, un problema di inquinamento della razza bianca come in modo veramente miserevole da un punto di vista politico umano, dice qualcuno che addirittura si candida a guidare un'importante regione nel nostro paese. Ecco perché siamo in tanti, perché c'è chi lavora sul territorio, tra i firmatari del protocollo, che ha i canali sul posto per raccogliere le istanze per giungere nel nostro paese. Il Comune di Napoli svolge ruolo istituzionale per favorire i canali diplomatici attraverso il Ministero degli Esteri, i Consolati e le Ambasciate per mettere in campo tutte le azioni per consentire a queste persone attraverso il corridoio umanitario di non andare a finire sul barcone della speranza che talvolta diventa il barcone della tragedia e invece giungere in sicurezza ai nostri territori. Ci sono le strutture ospedaliere che prestano cura sanitaria, ci sono le strutture come le associazioni che prestano assistenza legale, psicologica eccetera, c'è chi poi fa progetti anche insieme al Comune di integrazione nel nostro territorio affinché queste famiglie in poco tempo si sentono parte integrata e poi c'è l'umanità dei napoletani perché se noi andiamo a raccogliere le testimonianze di queste persone sono state immediatamente integrate, alcuni di noi ci sono stati a pranzo, altri li hanno ospitati a casa, poi molte cose si fanno nemmeno senza clamore mediatico, però da sindaco mi sento di dire che in questa città l'umanità e il cuore è davvero grande e questo non solo ci lascia ben sperare, ci lascia ipotizzare che la rete serve per evitare che manca qualche tassello di una catena di vita che invece è fondamentale perché se non hai i passaggi giusti rischi di fare un grande lavoro umanitario in Siria o in Libano come fanno alcune ONG e poi di non riuscire ad arrivare in Italia, invece oggi con questo tavolo si mettono insieme tutti i passaggi che consentono alla fine a queste famiglie di giungere qui e trovare rifugio, ecco perché alla fine il progetto si chiama Napoli città rifugio, perché non è solo l'assistenzialismo ma è un modo di integrazione di persone nella nostra comunità. Noi facciamo azioni che rappresentano comunque per quanto meritorie, per quanto in controtendenza e per quanto certe volte addirittura isolate in un panorama nazionale delle gocce rispetto a un oceano, però anche qui i dati che bisogna dare sono importanti perché il Comune di Napoli comunque sull'integrazione, l'accoglienza, il mettere in campo operatori e tra le città d'Italia, considerando anche la situazione di prediscesso nella quale ci troviamo, che mette in campo risorse materiali, umane e economiche davvero imponenti. Io ho visto l'altro giorno per esempio quando abbiamo fatto il comitato sulle baby gang che lo stesso Ministro è rimasto colpito, evidentemente non ne aveva i dati, è rimasto colpito dell'esercito, tra virgolette, di persone che sono impiegate quotidianamente in città sulle politiche sociali, perché le politiche sociali sono i rifugiati, sono i senza fissa di mora, sono i rom, sono i napoletani senza tetto, ecco la grande azione, quando io dico stiamo in una fase politica nuova, anche da parte del Comune di Napoli, qualcuno in modo un po' riduttivo l'ha collocata solo nel rimpasto di giunta, invece quando parlo di fase nuova mi riferisco sicuramente a dei check generali nelle catene di comando della città, ma mi riferisco superiore soprattutto nel concentrare gli sforzi nostri sulle priorità, per me le priorità per i prossimi tre anni sono le fragilità della nostra città, fragilità materiali come le condizioni materiali soprattutto di alcune periferie e le fragilità umane e metteremo in campo non solo azioni economiche ma anche azioni strutturali ad esempio nell'utilizzare ancora meglio e ancora di più il patrimonio immobiliare della nostra città, che non è solo dismissione per poter fare un piano di riequilibrio che regga nei confronti degli organi di controllo, ma anche la valorizzazione sociale, economica e territoriale del patrimonio che può servire soprattutto per dare un tetto a chi non ce l'ha, per dare rifugio a chi non ha possibilità di ripararsi dal freddo e chi non ha luoghi dove poter andare a mangiare. Questa è una grande sfida che il Comune di Napoli, che più in difficoltà di tutte le altre città, la vuole lanciare senza perdere di vista gli altri problemi e le altre questioni della nostra città.